Il rapporto tra l'architettura e il paesaggio, tra l'architettura e l'urbanizzazione. Temi globali e sempre d'attualità affrontati nell'ambito del corso di Architectural Composition 3 della doppia laurea di Ingegneria dell'Architettura tra l'Università di Pavia e la Tongji University di Shanghai, giunta quest'anno alla quinta edizione. Le regole storiche della disciplina non bastano più per rispondere a quelle che sono le esigenze della società. Da un lato il dibattito oggi si svolge in modo asincrono tra realtà in grande crescita, come nel caso della Cina, degli studenti che noi ospitiamo dalla Cina che sono abituati a un ritmo di crescita per noi dopo il 2008 semplicemente inconcepibile e viceversa una realtà europea con cui abbiamo gioco forza e imparato a confrontarci in termini di reuso, di recupero, di sostenibilità. Lo scorso 12 novembre una lezione speciale con Nancy Belings, una delle più note figure della critica architettonica contemporanea. L'architettura come lo conosciamo e come normalmente parliamo, è iniziato all'inizio dell'industria rivoluzione, quando questo processo di cambiamento inizia, di urbanizzazione, di professionalizzazione, di professionale dell'architettura, e con l'espansione del campo di azione dell'architettura, prima di che guarda in una storia di città e palazzi, di città e città e questo è tutto. E dopo 1800, vedete questa enorme expansione delle attività di architetti all'architettura, dal mercato al museo, dal scuolo al biblioteco, e poi, al fine del 19e secolo, è stata aggiungere la città e l'urbanizzazione. e per un tempo che l'architectura ha abbrato tutto ciò che ci sono.